ciao a tutti io sono Francesco Saviano di 3dskillup.com oggi vedremo come inserire un'immagine di background con Blender è un'operazione utile soprattutto quando vogliamo modellare un qualcosa ma anche quando dobbiamo fare del texture painting allora per inserire un'immagine di background premiamo shift a e andiamo su image reference una volta fatto questo carichiamo la nostra immagine e vediamo che viene posizionata in questo punto quindi cosa posso fare? posso selezionarla e come un qualsiasi oggetto posso spostarlo, ruotarlo e scalarlo quindi cosa farò con queste immagini posizionate in questo modo la seleziono Alt R e Alt G poi la ruoto su X di 90 RX 90 premo 1 sul tastierino numerico e mi porto in posizione frontale ortografica e in questo caso posso iniziare a modellare ma per evitare questi passaggi Alt R, Alt G, ruota su X, eccetera posso fare diversamente cioè posso già mettermi in posizione frontale ortografica e quindi subito dopo inserire la reference quindi shift a, image, reference inserisco la reference ecco che me la ritrovo nella posizione frontale ortografica adesso la prima cosa che faccio è spostarla un po' più indietro poi vado qui nell'Object Data Properties e ho le proprietà di questa immagine in background allora, cosa posso fare qui? posso spostarla su X e su Y poi qui alla voce Depth ci sono queste due funzioni front e back cosa fanno? vi faccio vedere se impostiamo il Depth su Front dovunque e in qualsiasi posizione si troverà l'oggetto la reference sarà sempre frontale vedete? anche se l'oggetto in questo caso sta avanti all'immagine ma se noi ci spostiamo l'immagine andrà sempre avanti all'oggetto perché appunto qui abbiamo selezionato abbiamo selezionato non so perché adesso non riesco più a selezionarla da qui ok? dicevo perché qui alla voce Depth abbiamo selezionato front mentre se seleziono la funzione back ovunque si troverà l'oggetto vedete che sarà sempre l'immagine di riferimento sarà sempre dietro vedete? poi un'altra funzione qui riportiamo Depth a default è Side, Front e Back cosa significa? semplicemente che Front visualizzerà l'immagine solo frontalmente e non dietro mentre Back visualizzerà l'immagine solo dietro e non frontale e non davanti mettiamo qui Bot questo per Expective significa che vedete in questo momento io sto visualizzando l'immagine anche in prospettiva ma posso deselezionarlo e quindi visualizzerò l'immagine solo in vista ortografica in questo caso mi sono spostato frontalmente in ortografico e sto visualizzando l'immagine solo in questa modalità se vi sta piacendo questo video mettete un bel like o lasciate un commento con qualsiasi domanda volete farmi oppure iscrivetevi al canale allora un'altra opzione molto utile è l'opzione Opacity che ci permetterà quindi di rendere più trasparente l'immagine questo tornerà molto utile soprattutto quando stiamo modellando e vogliamo concentrarci maggiormente su diciamo il nostro stiamo facendo del blocking out ci concentriamo più su quello che stiamo modellando e meno sui dettagli questo ci può tornare molto utile anche proprio ai fini semplicemente di una visualizzazione più chiara quindi questa è la funzione Opacity poi cosa converrebbe fare una volta posizionata l'immagine di background di riferimento converrebbe bloccarla e inserire l'immagine in una nuova collection chiamata ad esempio Reference, Blu e Print immagini di riferimento come volete come si fa? in questo caso si seleziona l'immagine con il tasto M vado a creare una nuova collection di nome Reference aspettate di nome Reference e quindi avrò questa nuova collection con le Reference un'altra opzione utile è bloccare una volta che abbiamo scalato l'immagine e abbiamo ottenuto le dimensioni reali di questo oggetto ci conviene bloccare l'immagine quindi semplicemente andrò qui nei filtri selezionerò Select Table e da qui lo deselezionerò e in questo modo non potrò più selezionare l'immagine di background e potrò praticamente iniziare a modellare quindi questo è tutto abbiamo visto come inserire un'immagine di background con Blender grazie ai ragazzi e alla prossima Grazie.